Benvenuti in Richard Mill Passione senza compromessi, caratteristica che contraddistingue l'orologiaio Richard Mill, che ha deciso di portare l'arte dell'orologeria a un livello completamente nuovo. All'età di 50 anni ha fondato nel 2001 il marchio Richard Mill, deciso a creare segnatempo che fossero unici precisi e dalla qualità eccezionale. Nel 2001 ha fatto il suo debutto il primo orologio Richard Mill, l'RM001, caratterizzato dalla sua piastra in titanio. Il suo design ergonomico, con la cassa tono o a botte, punteggiata da viti uniche, ha subito conquistato il cuore degli appassionati di orologeria di lusso, e il suo prezzo a sei cifre è stato un chiaro segnale del suo valore. Nel 2007 venne prodotto l'RM011, un orologio che conferma l'audacia e l'innovazione tecnica del marchio. Questo segnatempo scheletrato ha rivoluzionato il mondo dell'orologeria grazie al suo cronografo automatico con funzione flyback, che permette di azzerare e riavviare immediatamente il cronografo, dimostrando l'abilità di Richard Mill di combinare estetica e funzionalità. Nel 2022 Richard Mill decide di spingersi oltre ogni limite con l'orologio meccanico più sottile al mondo, l'RM Up01 Ferrari. Questo incredibile segnatempo è riuscito a battere il record di Bulgari di 1,8 mm con i suoi soli 1,75 mm di spessore. La collezione di orologi Richard Mill si è da allora evoluta, oggi comprende più di 80 modelli, ciascuno realizzato con la stessa passione e gli stessi principi fondamentali che hanno ispirato la prima creazione di Richard Mill. Il marchio è ormai sinonimo di eccellenza e innovazione, il suo segreto è la dedizione e l'impegno di un team di orologiai altamente specializzati che lavorano con cura e attenzione ad ogni dettaglio. L'attenzione per i dettagli, la qualità dei materiali utilizzati e la precisione dei meccanismi che animano i suoi orologi hanno reso Richard Mill un punto di riferimento per gli amanti dell'orologeria di lusso. Con ogni nuovo orologio che crea, il marchio continua a superare i propri limiti e ad emozionare sempre di più i suoi fedeli appassionati. Ecco perché quando si parla di orologi di lusso, il nome Richard Mill è sempre più sinonimo di rivoluzione.